ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi rosario moreno giulio reggeni i genitori del ricercatore torturato e ucciso hanno detto siamo stati traditi dallo stato italiano non dall'egitto durante la trasmissione propaganda live il padre e la madre del dottorando massacrato quattro anni fa hanno detto non intendiamo farci prendere più in giro dall'egitto e non ci accontenteremo di atti simbolici dopo quattro anni e mezzo il tempo è scaduto lombardia infermieri dicono la regione ha sbagliati i conti dimezzato il premio promesso a chi è stato in prima linea contro il covid poi l'accordo in extremis ai soldi del decreto rilancio il riconoscimento fino a 1250 euro per gli eroi del coronavirus è stato confermato in extremis grazie a 30 milioni previsti dal provvedimento del governo sindagati avevano scoperto della delibera del 9 giugno che la cifra stanziata dalla regione era l'ordo di oneri riflessi e irap soldi che il datore di lavoro trattiene dalla busta paga non avevano calcolato che per garantire quell'ordo servivano risorse aggiuntive nursing up che non ha firmato l'accordo ha detto il netto scende comunque a meno di 1000 euro carceri la dirigente del dap avvertì e dice avvertì miei superiori su quella circolare del 21 marzo rischiavano di uscire detenuti pericolosi e continua l'indagine della commissione antimafia sulle scarcerazioni durante l'emergenza coronavirus palazzo san macuto vuole capire come è nata quella nota del dap e se ha avuto come fine proprio la concessione dei domiciliari ai detenuti pericolosi catarina malagoli direttrice dell'ufficio alta sicurezza del dap ha detto non fu informata ne sono venuta a conoscenza in modo casuale ma dissi subito ai miei superiori che quel documento avrebbe creato grossi problemi e molte polemiche romano mi rispose che aveva documentato tutto ed era stata condivisa romano è il dg del trattamento detenuti del dap e sta emergendo come il protagonista di questa storia la mail al medico che dice sto spiegando al ministero l'importanza di una norma che fallisce che faciliti la detenzione domiciliare confindustria prendi i soldi e piangere aziende va il tripolo del reddito di cittadinanza sul fatto quotidiano millennium in edicola appunto c'è questo servizio molto interessante cari amici incentivi a fondo perduto contributi all'export agevolazioni fiscali e contributive sostegni alla produzione sono solo alcuni degli strumenti pubblici che portano denare nelle casse degli industriali italiani un fiume di denaro difficile da quantificare con precisione che nella migliore delle ipotesi supera di quasi tre volte il budget stanziato a favore del reddito di cittadinanza capristo illegale dei falsi debistaggi eni l'avvocato ragno a potenza si indaga sul ruolo del sistema trani nel processo all'ilva di taranto procuratori che si spostano da una città all'altra incarichi apparenti di magistrati società che si trasferiscono con tempistiche sospette legami e trattative insomma ipm del capoluogo lugano vogliono capire se alcuni protagonisti delle inchieste che hanno decapitato gli uffici giudiziari della cittadina adriatica hanno tramato per condizionare il più grande processo ambientale della storia d'italia notizia da napoli e dalla campania spinge la fidanzata in mare rischiando di ucciderla il fratello dice non voleva farla cadere una serata con gli amici in allegria e serenità e poi qualcosa di turba si allontanano iniziano a discutere si siedono sul muretto di via nisida poi la spinta che fa perdere l'equilibrio alla ragazza che batta prima la schiena contro gli scogli e poi cade in mare sono minuti drammatici due persone si tuffano in acqua e tentano di salvare amanda riuscendo a fatica a riportarla a galla la giovane però ha bevuto molta acqua viene trasportata in ospedale d'urgenza al policlinico di napoli dove è ricoverata nel reparto di rianimazione in pericolo di vita a napoli torna il gay pride in forma di flash mob sarà il primo in europa dopo il lockdown torna a napoli il pride il grande appuntamento con la rivendicazione dei diritti civili per tutti la città all'ombra del vesuvio sarà la prima in europa a ospitare lo storico evento dopo il lockdown la manifestazione questa volta però si terrà solo in forma di flash mob e in assoluta sicurezza nel pieno rispetto delle norme anticotaggio che assicurano appunto i promotori notizie da treviso e dal veneto coronavirus due positivi alla caserma serena oltre all'operatore pakistano un migrante nigeriano messi in quarantena tutti i 320 ospiti del centro di accoglienza alle porte di treviso in mattinata un'altra rivolta poi medici sono stati respinti e medici sono stati respinti e spintonati concorsi e corruzione coinvolto un vigile del fuoco trevigiano tre persone arrestate dalla guardia di finanza di benevento in un'indagine sui concorsi per l'accesso ai ranghi delle forze dell'ordine sospeso per 12 mesi dall'esercizio delle funzioni alessandro filippo lupo 56 anni di treviso black live matter centinaia di giovani manifestano in piazza borsa venerdì 12 giugno il comitato black live matter veneto ha organizzato in piazza borsa treviso un flash mob di protesta per dire no al razzismo e ricordare la morte di george floyd colline del prosecco unesco nominato il comitato scientifico zaia dice si tratta di sei nomi di indiscusso valore grande competenza il comitato affiancherà l'associazione per il patrimonio delle colline unesco di conegliano e valdo viadene treviso fond 48 pratiche in un mese pronti a erogare nuovi finanziamenti dicono successo per il progetto che punta al rilancio di imprese e attività produttive il vice sindaco dei checchi ha detto che mentre lo stato ritarda con i prestiti noi siamo già al treviso fond 2 notizie dal friuli venezia giulia e per questo prima di passare alle notizie vi facciamo ascoltare il contributo della nostra inviata dal friuli venezia giulia sabrina ceccotti giovedì 11 giugno 2020 è stato provata la legge delega del family act dal consiglio dei ministri tra le varie novità troviamo l'assegno unico per i figli un importo mensile dagli 80 euro 240 euro che verrà calcolato sulla base del modello isei e verrà riconosciuto alle famiglie con figli a carico fino al diciottesimo anno di età andrà a sostituire i bonus vigenti ad oggi quali il bonus mamma e il bonus bebè e gli assegni familiari l'approvazione del decreto legislativo per l'assegno unico per i figli è previsto entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega gli italiani confidano in un iter più veloce che agevoli le famiglie a partire già dal 2021 ora quali commenti ci possiamo aspettare dal consigliere di udine carlo pavan le ultime dichiarazioni rilasciate lo scorso 10 giugno sulla disparità del trattimento tra i ricchi e poveri di udine ha lasciato davvero di stucco la popolazione udinese e non solo è tutto sabrina ciccotti da udine per radio saius grazie a sabrina ciccotti e per questo contributo e passiamo alle notizie nuova ordinanza il friuri venezia giulia apre teatri e cinema insomma tutte le novità in vigore dal 15 al 30 giugno e dal 19 via libera anche alle discoteche il governatore del friuri venezia giulia massimiliano fedriga emanato l'ordinanza con contingibile e urgente numero 17 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19 da sabato 13 la slovenia la slovenia riapre il confine con il friuri venezia giulia anticipato di 48 ore il termine stabilito a livello nazionale che rimane fissato al 15 giugno dopo la conferma della riapertura del confine austriaco martedì 16 giugno arriva un'altra attesa notizia e questa volta da lubiana quindi da oggi sabato 13 giugno riaprirà il confine tra il friuri venezia giulia la slovenia anticipando così di 48 ore quanto era già stato stabilito a livello nazionale a darle notizia appunto il governatore del friuri venezia giulia massimiliano fedriga al termine di un confronto con il primo ministro sloveno e janet jansa udine riparte dalle notti sotto le stelle da venerdì 12 fino a che c'è stato da ieri venerdì 12 fino a ottobre zone pedonale nel cuore della città per fare spazio a sedi e tavolini di bar e ristoranti un'iniziativa insomma che abbiamo fortemente voluto convinti che possa rappresentare una svolta in positivo dopo tante settimane di sofferenza per le attività economiche del centro cittadino giuseppe pavan presidente mandamentale di commercio udine ricorda appunto il ruolo di primo attore dell'associazione nell'iniziativa udine sotto le stelle la manifestazione che appunto da ieri è partita e andrà fino a ottobre e vedrà le vie poscol gemona e aquileia oltre al largo dei pecile e del tratto aperto di via mercato vecchio trasformate appunto in zone pedonali e riempite di sedie e tavolini di bar e ristoranti principio d'incendio in un'azienda di pavia di udine mentre erano in corso i lavori sul tetto si sono innescate le fiamme che hanno interessato alla copertura del principio d'incendio appunto ieri mattina verso le 10 un'azienda di via san giuseppe artigiano a pavia di udine mentre erano in corso i lavori appunto di impermeabilizzazione sulla copertura del capannone si sono innescate le fiamme che hanno interessato una parte del manto oltre al controsoffitto installato nella zona degli uffici i pompieri liberano un capriolo intrappolato l'animale era rimasto bloccato in una recinzione lungo la ciclovia alpe adria tra chiusa forte e dogna i vigili del fuoco appunto ieri mattina hanno liberato e rimesso sano e salvo in libertà il capriolo che era rimasto intrappolato in una delle recinzioni che delimitavano appunto la ciclovia alpe adria cari amici con questo è tutto termina qui questa edizione della rassegna stampa in studio con voi rosario moreno buon proseguimento con la programmazione grazie a tutti Grazie.